Buongiorno amici di Chichirichì, buongiorno! Ci stiamo per avvicinare alla Pasqua, però amici miei, con questo tempo mi sembra più il Natale. Infatti ho visto dei bar, le pasticcerie, hanno tolto le colombe, hanno messo i nuovi panettoni. Non è possibile! Cioè, stamattina 11 gradi ad Altamur, mi sono rimesso, io e Nunzio ci siamo rimessi, i piumoni, quelli pesanti che mettevo a gennaio e a febbraio. Allora, addirittura il buon Nunzio, ora si sta mettendo pure il cappellino, Nunzio mi raccomando, le cuffie, le cuffie, si deve sentire l'audio, se no sopra l'editore si arrabbia. Posso dire che ce le ha le cuffie, oh, le cuffie, oh, qui, prova, prova, sa, 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 sento tutto questo. Questo è il discorso, fa freddo, oggi devo fare una puntata che avevo bisogno di un po' di calore, un po' di sole, non è possibile, quindi abbiamo cambiato itinerario, facciamo un altro tipo di puntata. Allora, amici di Chichirichì, siamo qui ad Altamura e oggi un'altra puntata culturale. Abbiamo fatto prima la puntata sull'uomo di Altamura e avete notato la grande somiglianza tra l'uomo di Altamura ed Emanuele Giordano, siamo proprio simili, soltanto su una cosa siamo leggermente diversi che non vi sto a dire. E oggi vi presenterò, vi illustrerò, sempre come tipo modello Alberto Angela, niente di meno che le impronte del dinosauro. Sì, amici, ad Altamura, oltre a esserci l'uomo di Altamura che risaliva al paleolitico, ci sono anche le impronte del dinosauro. E voi dite, ma come è possibile? Sì, ma come si possono trovare qui ad Altamura? Perché? Come sono affiorate queste impronte del dinosauro, che poi hanno fatto degli studi, i paleontologici, come gli altri, come si chiamano, gli studiosi, i... Madonna, amma bene, come si chiamano, gli studiosi, basta dire gli studiosi e abbiamo fregato tutti. E hanno proprio constatato scientificamente che sono le impronte di rettili, diciamo, che risalgono sicuramente a 70 mila anni fa, quando Nunzio non era ancora... 70 milioni, 70, 70, scusate, 70 milioni di anni fa. Quindi immaginate, Nunzio non avevano ancora deciso di concepirlo, non avevano mai il bisnonno di Nutrisnone, Quadrisnone, nessuno, stava... Quindi, nemmeno l'uomo di Altamura, perché l'uomo di Altamura è nato dopo, perché altrimenti sarebbe stato mangiato dai dinosauri che stavano ad Altamura. Quindi, come potete vedere, i dinosauri, oltre che ci sono ancora adesso i dinosauri in politica, questi erano i dinosauri, proprio quegli animali. E quindi, come hanno scoperto? Allora, qui c'era, diciamo, una cava di pietra, no? Tipo pietra di trani, queste pietre naturali. Allora, l'azienda, il proprietario che aveva questa cava di pietra, scavando, 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 a un certo punto ha notato che c'erano come dei buchi, come delle impronte strane, ma ce n'erano tantissime, infatti poi le contarono, erano più o meno su intorno alle 50.000 impronte. Fecero venire gli studiosi, fecero venire gli archeologi, non mi venevo il termine, gli archeologi, porca miseria, mi sa che venne pure Indiana Jones, quello del Tempio Maledetto. Dice, oh, wagnu, ma voi non vi rendete conto che queste non sono buchi di, come si può dire, le talpe, queste sono addirittura le impronte dei dinosauri che risaltono a 70 milioni di anni fa. Ma vi rendete conto che queste impronte sono rare in tutto il mondo e voi siete fortunati che avete le impronte dei dinosauri? E così questo suolo, questa cava, è passata poi al comune che feceva un acquisto e adesso i turisti possono ammirare finalmente le impronte del dinosauro. Però su tutte le cose ci sono i pro e i contro. Allora, io adesso vi ho detto i pro, amici di Altamur. I contro quali sono? Che c'è una recinzione che fa schifo, cioè per un patrimonio di una importanza mondiale. Stan Kangid tutto quanto ha rezzenuto. E infatti, quando è successo, scusi Nunzia, avvisami, la settimana scorsa, sette, otto giorni fa, c'è stata una presentazione, diciamo, come? Della rete museale. Oh, della rete museale. Quindi quando hanno inaugurato l'uomo di Altamura, diciamo, di concerto, sono venuti studiosi, professori universitari, archeologi, per vedere le impronte del dinosauro. E voi potete pensare, ci va, chiaramente li hanno fatti entrare dalla porta, stavo portone, no? Piccio portone, dici che non hanno macchiato la chia. E vedete, non ve lo dico io, vedete un po' dalle immagini, praticamente questi studiosi, questi professori universitari, l'hanno fatto trasi qua, con le forbici, hanno tagliato la recinzione e questi cattedratici sono entrati da qua. Ma c'è fiura scritta, ma che figura soltanto? Cioè poi dici che noi in meridione, è chiaro, non ci sappiamo fare, non abbiamo lo spirito imprenditoriale della cultura, sia per quanto riguarda Matera, e mi dispiace dirlo anche per quanto riguarda Altamura. Gli avete fatti vedere i finocchietti di campagna, che è pieno di finocchi qua, e vabbè ci possono anche stare perché noi siamo per la parità dei sessi. Però, scusate, avete un patrimonio grandissimo. Cioè possono venire turisti, specialmente che mostra Matera 2019, l'altro blef, che quindi a questo punto ce l'indotto, vedono magari il blef di Matera 2019, e poi vengono qui a vedere l'uomo di Altamura, e vengono a vedere pure le impronte del dinosauro. Ma volete vedere, ma voi, uno può pensare, chissà, si sono apprestati magari, sia la regione Puglia e i vari sindaci si sono apprestati, hanno accelerato il processo di restauro di queste impronte. Cioè non sono mai state restaurate, non sono mai state, come dire, niente, niente, adesso si stanno scomparendo. Non ci credete? Adesso all'Alberto Angela vi faccio vedere le impronte del dinosauro in che condizioni si trovano. Come on! Nuzio, sembro come Mosè, quando le pecore, le pecore le ho lasciate in fondo là perché giustamente ancora dovesse stare qualche dinosauro vivo ancora, vede le pecore e si mangia i pecore. E a Pasqua non lo ha bisogno, non lo ha mangiato, o no? Ok, allora siamo arrivati adesso nella zona con la massima concentrazione di impronte dei dinosauri. Come potete vedere dalle immagini del buon Nunzio, qui ce ne sono tantissime, saranno, diciamo, quelle che ancora riescono a vedersi. Perché in effetti se non c'è restauro, non c'è una manutenzione, non c'è un controllo, non c'è niente, queste impronte, ahimè, lo dico, sono destinate a scomparire. Quindi un patrimonio storico risalente a 70 milioni di anni fa nel meridione, che non sappiamo apprezzare i nostri tesori, verrà distrutto. Ma scusami, seguimi un attimo, Nunzio, guarda, si vede proprio l'impronta del dinosauro, questa impronta grande, perché forse aveva quattro zambi, cioè le impronte più grandi e poi, diciamo, forse la parte anteriore, le zampette più piccole. E si vede proprio, vedi, una specie di curva, una specie di cuneo, forse teneva l'unghia, forse il dinosale aveva l'unghietta, non lo so. Però, vedete, qui ce ne sono tantissime, cioè in questa zona qui, per fortuna, sono visibili, però, siccome qua non se ne frega niente nessuno, il comune, la regione, questo dovrebbe essere anche, come dire, ma è esito un esco questo? Perché secondo me questa è l'unicità dei luoghi, non so ancora perché la regione o il comune non si sia ancora interessata per ottenere, diciamo, il patrimonio un esco, cioè il patrimonio dell'umanità, perché a questo punto tutta l'umanità deve interessarsi, diciamo, di una cosa, qua fanno crescere il muschio, fanno crescere l'erba, cioè sulle, vedi qua, dove c'è questa impronta, vedi? Vedi quanto questa è visibilissima, vedi, Nunzio? Sta il timo, il muschio, i finocchi, cioè non è possibile, ma è mai possibile che un patrimonio del genere, magari avvistato in Germania, in Svezia, in Olanda, fanno il macello, qui in meridione, nell'Italia meridionale, no, cioè, poi dice che noi dobbiamo essere abitanti culturali, ma se noi la spariamo la cultura, noi la, come dire, non mi viene il termine, la rigettiamo, non ne frega nulla, a noi bascarecchia, un mangiare, un mangiare, questo è l'importante, la cultura, per noi, con la cultura non si mangia, invece non è così, perché fare un polo attrattivo, diciamo, organizzato, fatto in un certo modo, con delle guide, che fai, mi pulisci la cosa? In diretta, no? Con delle guide, con degli esperti, con dei giovani archeologi, che devo spiegare, cioè, è molto, ma molto interessante, cioè, chi potrebbe immaginare che questi, questi buchi, vedi, Nunzio, che poi è un discorso di, come dire, nel corso dei migliori di anni, è chiaro che poi si è calcificato, cioè, con questa roccia calcarenitica dovrebbe essere, se non sbaglio, ci sono queste impronte dei dinosauri, cioè, noi qui stiamo camminando, no? Sulla storia, sulla storia della, del nostro, della terra, cioè, del nostro pianeta, però, come al solito, non ne frega nulla, e infatti, questa è la condizione del, diciamo, della, di questa cava, delle impronte, del dinosauro, ma quante ce ne sono? Ma è vero che, in effetti, io che ne sono 50.000, perché, come ti volte e ti giri, ah, vedi queste impronte, col terreno, vedi, con l'erba, cioè, allora, io dico, volete, come dire, essere un polo attrattivo a livello turistico, a livello culturale, cioè, questi, questi riscontri storici che attirano centinaia e migliaia di, diciamo, di turisti, non ho capito, ma perché è feste pure a organizzare un discorso pure per quanto riguarda l'uomo di Altamura, di concerto con le impronte del, come si chiama, su dinosaio, non stavo a scherzare, con le impronte del dinosauro, ma forse c'era anche qualche brontosauro, gli erbivori, quindi il brontosauro, il pecorsauro, il caprosauro, tu continui sempre a pulire in diretta, la cosa più bella. Scusa, fischietti tu perché non pulisci pure gli occhiali, vedi? Scusa, no, l'acchiala a me ha apprezzato. Ah no, deve pulire da qua, se no è furbo, va bene. Allora, amici di Kikikiki, a me dispiace di questa puntata un po' sotto l'acqua perché avrei voluto farvi vedere un po' l'estensione di queste impronte del dinosauro che sinceramente ce ne sono tantissime, ce ne sono tantissime, adesso il buon nunzio vi sta inquadrando, ce ne sono veramente tante di diverse dimensioni perché questo fa capire che non c'era solo un dinosauro, ce ne erano parecchi, tantissimi, di diverse dimensioni perché in effetti la prova è la forma diversa delle impronte lasciate dalla zamba, dai piedi, c'è un dinosauro, la zamba, insomma, una cosa diciamo per camminare sinceramente, non lo so perché all'epoca né io né nunzio eravamo nati e quindi non ci ricordiamo. Va bene, nunzio io direi che sta piovendo tantissimo, noi concludiamo questa puntata, la telecamera per fortuna l'abbiamo salvata, cioè è soltanto diciamo umida e noi dalla cave dei dinosauri vi salutiamo e ci vediamo domani su Kikikiki sempre alla stessa ora. Statevi buoni! Grazie a tutti!